Io sono Umberto Poschi e faccio parte in Google della divisione Enterprise che è la divisione che appunto si occupa di portare sul mercato tutti i prodotti, chiamiamoli informatici, quindi poi nella fattispecie tutto alla cloud platform nel mondo delle aziende, dalle piccole aziende, dalle start up fino alle grandissime aziende. Giusto per darvi un attimo un po' di contesto e darvi anche qualche numero, oggi come soluzioni Google Cloud nel mondo abbiamo più di 5 milioni di aziende che hanno adottato le nostre soluzioni. Quello che cercherò di darvi durante questa oretta introduttiva è un po' di contesto, quindi sarà sicuramente la parte meno tecnica di tutto il workshop, però voglio darvi un po' di contesto per capire dove si va a collocare tutto quello che voi vedrete nel corso della giornata. Se ci sono domande interrompetevi tranquillamente e spero di essere in grado di rispondervi. Diciamo più o meno Google ha 14 anni, negli ultimi 14 anni Google è riuscita a creare quella che possiamo sicuramente definire la più grande infrastruttura presente oggi sul pianeta. Noi siamo oggi nelle classifiche delle reti IP al mondo fra le prime tre più grandi reti IP al mondo. E una cosa molto curiosa è che siccome molta della tecnologia che noi utilizziamo all'interno dei nostri data center è interamente costruita da Google, siamo finiti anche nelle classifiche dei produttori di server, per quanto il business di Google non sia sicuramente quello di vendere server. Pertanto possiamo, come vi dicevo, vedere la rete di Google come una delle reti, se non la rete più performante, più veloce e più affidabile che oggi è presente sul pianeta. E quello che noi abbiamo fatto negli ultimi 5-6 anni è di esporre tutti i servizi su cui noi stessi facciamo funzionare il nostro business e rendere disponibili per poter, diciamo, rendere disponibili alle aziende affinché le aziende si possano veramente focalizzare sugli aspetti innovativi, dimenticando quella che è la gestione dell'informatica, quella che è tutta la gestione dell'informatica dell'informatica tradizionale. Per cui il messaggio che spereremo di trasferirvi nel corso di tutta questa giornata, poi tramite anche tutte le sessioni in zona che andrete a vedere, è quello di dirvi concentratevi sull'innovazione, siate veloci perché oggi il mercato richiede una notevole velocità, quindi non aspettate magari di avere il prodotto perfetto, ma cercate di lanciare il cuore oltre l'ostacolo, senza dover pensare a gestire infrastrutture, a gestire server, a gestire il patching, a gestire i sistemi operativi. Quelle sono tutte funzioni che noi sappiamo fare bene e che quindi sono in carico alla nostra rete. Quindi l'idea è darvi dei servizi affinché voi possiate veramente concentrarvi sulla velocità di esecuzione e in primis sull'innovazione. Cosa portiamo sul mercato e cosa quindi rendiamo disponibile a chiunque voglia utilizzare la piattaforma di Google per lanciare i propri servizi. Noi in questa conferenza ci focalizzeremo molto su tutta la parte, definiamola così, di servizi infrastrutturali e servizi di piattaforma con qualche anche possibilità di servizio applicativo. Google copre come offerta cloud tutto lo stack, dall'application as a service e fino all'infrastructure as a service. Noi offriamo capacità computazionale sia in logica IaaS attraverso un servizio che si chiama Google Compute Engine che è un ambiente di runtime environment in logica platform as a service che è Google App Engine. Quindi non so se magari qualcuno di voi ad oggi, giusto alla strada di mano, ha mai sviluppato in Google App Engine. Ok, quindi c'è una buona percentuale di persone che ha già quindi familiarità con l'ambiente. È un ambiente runtime dove si può sviluppare in Go, che è un linguaggio Google, Java, Python e all'ultimo Yo Conferenz è stata anche rilasciata la possibilità anche di sviluppare in PHP. Abbiamo poi dei servizi che genericamente possiamo chiamare servizi di storage che vanno dall'archiving vero e proprio di file di dimensioni fino ai terabyte di dimensioni del singolo oggetto a servizi più di database relazionale o diciamo datastore, schimless, che sono quelli che sono disponibili all'interno della piattaforma Google App Engine. E la terza categoria di servizi che rendiamo disponibili sono servizi più a livello applicativo quelli su cui ci focalizzeremo nell'ambito di questa giornata sono dei servizi che noi chiamiamo Google Big Query che consentono quindi l'analisi di grandissimi mole di date, milioni e milioni di righe, centinaia di milioni di righe in pochissimi secondi. Quindi noi sfruttando la grandissima capacità e la grandissima performance della nostra rete siamo in grado di offrire una velocità di esecuzione a quelli che tradizionalmente richiederebbero magari ore e noi invece siamo in grado di offrire un risultato in poche decine di secondi. Ci sono anche molti altri servizi, li vedremo nel corso della giornata. Prima di entrare nel dettaglio e per darvi anche sempre un po' di contesto, oggi sono circa 3 milioni le applicazioni che sono state sviluppate e che girano sulla nostra rete. Andremo a vedere qualche caso di successo, appunto prima di entrare proprio nelle righe di codice, di aziende che hanno lanciato delle applicazioni o hanno esternalizzato parte della loro informatica sulla piattaforma Google. Se dovessimo in qualche modo categorizzare gli ambiti di utilizzo e quindi quelli che possono essere i verticali che oggi riscuotono, su cui la piattaforma riscuota maggiore successo, sicuramente c'è il gaming, vedremo ci sono proprio dei casi di successo di aziende che sviluppano applicazioni online. Abbiamo casi di successo nel mondo delle applicazioni più in generale in mobilità, dove il nostro ruolo è quello di offloadare l'intero back-end applicativo. In realtà aziendali dove hanno deciso di esternalizzare sulla piattaforma il loro storage o creare un ambiente di sviluppo, di prestaging, sempre sulla piattaforma Google, piuttosto che in realtà di e-commerce dove hanno bisogno, magari molto velocemente, anche nell'arco della stessa giornata, di dover analizzare quello che è il comportamento del consumatore e riuscire ad adattare magari l'offerta che viene veicolata sul portale attraverso le informazioni che vengono fornite. Un altro caso che poi vedremo di successo, che è stato quello di Best Buy, credo che magari lo conosciate tutti, è una catena principalmente, anzi quasi esclusivamente, negli Stati Uniti, che ha realizzato un'applicazione social proprio sopra la nostra piattaforma. Pulse è una di queste applicazioni in mobilità che ha avuto un grandissimo successo e che il culme di questo successo è stata poi l'acquisizione da parte di LinkedIn che è avvenuta ad aprile per circa, mi sembra se non ricordo male, 90 milioni di dollari. Due studenti della Stanford University che hanno creato questa applicazione che consente di aggregare tutte le notizie o tutte le informazioni da siti di nostro interesse in modo tale quindi di avere un'informazione totalmente personalizzata. In 18 mesi hanno moltiplicato per 70 quella che è la loro base utenza e il dato che loro hanno rilasciato al momento dell'acquisizione era di circa 30 milioni di utenti della loro applicazione. Ora immaginatevi di dover pensare di dotarsi di tutta l'infrastruttura informatica per poter gestire 30 milioni di utenze che crescono in un periodo di tempo magari di pochissimi mesi. È una cosa che nessun business plan darebbe un risultato positivo quindi risulterebbe totalmente anti-economico. Ed è per questo che quindi noi come Google ci proponiamo di offrirvi tutta una serie di servizi che vengono pagati a consumo. Quindi l'agurio è che l'applicazione sia un'applicazione di successo se lo è di successo chi lancia l'applicazione monetizzerà l'applicazione e di conseguenza pagherà il consumo di tutta la parte infrastrutturale su cui si è appoggiato. Se malaguratamente l'applicazione non dovesse aver successo il rischio di impresa è veramente ridotto al minimo se non allo zero. Un altro caso pubblico di un'azienda che ha utilizzato la piattaforma di Google per estendere il bacino di utenza della propria applicazione è la Rovio con il gioco Angry Birds. Loro hanno lanciato il gioco sulle piattaforme iOS ed Android e poi si sono allargati al concetto del gioco online e quindi lo hanno reso disponibile anche sulla piattaforma web. Quindi è possibile giocare Angry Birds online. Quindi al solito ci occorreva tutto un environment dove poter far girare questa applicazione in modo scalabile che quindi dinamicamente potesse scalare con quella che è l'utenza, la crescita dell'utenza che magari non può essere prevista a priori e hanno fatto uso dei servizi che vi ho elencato in precedenza. Vi dicevo Best Buy, Best Buy è una storia piuttosto curiosa perché loro avevano iniziato a sviluppare un'applicazione che si chiama Gift Tag che poi è un plug-in per il browser che consente di condividere una wish list in inglese, cioè una lista delle cose che uno desidera comprare. Quindi si fa questa wish list con questo plug-in e si condivide con gli amici. Questa applicazione è stata sviluppata secondo i canoni dell'informatica tradizionale, ci avevano messo circa poco più di un anno per poterla sviluppare e si sono accorti che non poteva scalare per quello che era il trend di utilizzo dell'applicazione si erano accorti che stava diventando antieconomico mantenerla e farla scalare appunto in accordo a quello che era il trend di utilizzo. Per cui cosa hanno fatto? Con circa un quarto sia delle risorse che del tempo che avevano impiegato a svilupparla in precedenza hanno fatto il completo recoding del plug-in sulla piattaforma di Google riscontendo un grandissimo successo perché fu lanciata durante quello che è il Black Friday che è l'inizio della stagione diciamo dello shopping negli Stati Uniti. Altro caso di successo qui in Europa di C Discount che è uno store di commercio elettronico anche loro si sono appoggiati sulla piattaforma Google e secondo quanto da loro stessi dichiarati le performance sono migliorate circa 15 volte. non solo ma loro sono uno un caso dove hanno fatto utilizzo dei nostri servizi tipo ad esempio il servizio BigQuery per poter proprio capire quelle che erano le dinamiche del consumatore. Quindi hanno iniziato a mettere all'interno del nostro database lo storico dei comportamenti lasciatemi dire o quella del comportamento dell'audience fino a tre anni riuscendo quindi a capire quelli che erano i trend più interessanti e adattarsi quindi a questo tipo di trend. Come vi dicevo un uso più diciamo simile all'informatica tradizionale però con dei costi e chiaramente con un modello di business totalmente diverso è quello di dire io ho bisogno magari di mantenere una diciamo un deployment perché magari sono una grande azienda ho bisogno di tenere le mie applicazioni per esigenze mie al mio interno però posso pensare di andare ad offloadare tutta la parte di development di prestaging che è comunque una parte che dal punto di vista economico e degli economics di un intero progetto è una parte comunque comunque onerosa. Quindi come vi dicevo ci sono moltissimi casi di successo ci sono molti casi anche di aziende italiane che lo hanno utilizzato e quindi speriamo che con quello che voi vedrete oggi magari abbiate la curiosità o l'interesse soprattutto l'interesse di business a sviluppare e a portare innovazioni al mercato appoggiandovi sulla nostra piattaforma. Ci sono domande? No. Allora cerchiamo di dare un pochino più di contesto scendendo un po' più nel dettaglio. Ora abbiamo viaggiato a 100.000 km di altezza dandovi un po' di contesto e dandovi alcune buzzword adesso scendiamo non a pochi metri ma andiamo sempre a qualche migliaio di chilometri dandovi qualche buzzword di quelle che poi oggi andrete ad approfondire nel corso della presentazione. i servizi su cui ci diciamo vi concentrerete nell'analisi di oggi possiamo sostanzialmente sintetizzarli in questi cinque poi vedrete anche la parte di cloud di cloud endpoints sulla quale magari dopo vi fornisco alla fine della presentazione c'è uno schema che ve ne fa vedere l'utilizzo e che comunque facilita l'interazione con il back end da parte di applicazioni di applicazioni di mobilità quindi partiamo da Google App Engine che se vi ricordate nel diciamo nello schema precedente Google App Engine è un runtime environment quindi voi potete sviluppare in Java Python e ora anche in PHP la vostra applicazione e farne il run e il deployment sull'infrastruttura diciamo sull'infrastruttura di Google qui non si parla con Google App Engine di infrastructure as a service quindi non è che vi vendiamoci più o dovete fare un planning di quanta capacità vi serve e poi comprare questa capacità online quello che noi vi diciamo è sviluppate la vostra applicazione utilizzate il linguaggio con cui siete più familiari e utilizzate chiaramente le librerie che ne consentono il deployment sulla diciamo sulla rete di Google e sarà la rete di Google a richiedere le risorse necessarie per poter gestire il carico che mano a mano verrà richiesto all'applicazione all'applicazione stessa quindi questo che è un po' il concetto che vedrete sicuramente nel corso della giornata dell'autoscaling della piattaforma stessa quindi la piattaforma in modalità automatica va a richiedere quelle che sono le risorse diciamo computazionali o le risorse diciamo anche di memorizzazione transazionale per poter gestire l'audience che mano a mano richiede l'utilizzo dell'applicazione dell'applicazione stessa all'interno di questa diciamo di questa piattaforma come vi dicevo sono disponibili i linguaggi più popolari quindi linguaggi con cui credo la maggior parte di voi siete familiari è del recente Google quindi stiamo parlando di circa un mese fa l'annuncio anche della disponibilità di PHP e all'interno di questo diciamo di questo random time environment voi avete la possibilità di poter utilizzare anche in modo flessibile tutto diciamo tutte le modalità di storing del dato che vi sono richieste quindi è disponibile nativamente all'interno diciamo dell'environment un data store diciamo senza schema chiamiamolo così quindi senza un concetto di database relazionale però se l'esigenza è l'utilizzo invece di un database relazionale potete appoggiarvi a quello che è il cloud SQL che è basato diciamo su MySQL e che quindi vi offre una capacità di database relazionale piuttosto che se l'esigenza è lo storing di file di grandissime dimensioni fino ai terabyte potete appoggiarvi su Google Cloud Cloud Storage quindi massima flessibilità sia dal punto di vista diciamo del linguaggio di programmazione che voi andate a utilizzare sia dal punto di vista delle esigenze di storing che dovrete utilizzare per sviluppare la propria applicazione nonché prego sì diciamo che sono possibili entrambi sono possibili entrambi i casi sai che non continuo a non sentirti perdonami sì esattamente ad oggi i linguaggi sono questi diciamo sono quattro quello disponibile quindi in questo momento l'ultimo rilasciato è il PHP non ho visibilità se sarà o meno disponibile questo se in quanti tempi per ora i linguaggi disponibili sono Go che è un linguaggio Google Java Python e l'ultimo rilasciato è il PHP prego quando fanno le domande puoi ripeterle? sì 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 scusami le ripeto se le riesco a capire esatto poi comunque potrò in giro il microfono ok diciamo la piattaforma quindi ha quella che vi dicevo prima una delle dei grandissimi vantaggi che offre la piattaforma è proprio questa capacità di autoscaling per esempio nel caso di Rovio e dello sviluppo di Angry Bears è sicuramente questo uno delle ragioni principali per cui uno utilizza questa piattaforma io sviluppo la parte online del gioco appoggiandomi facendo nel runtime sulla piattaforma Google e le risorse verranno richieste sulla base del consumo e quindi pagherò di conseguenza quindi un modello completamente diverso a quello a cui l'informatica diciamo tradizionale ci ha abituato negli ultimi vent'anni cioè io devo andarmi a provvigionare le risorse per poter essere dimensionato sul picco cosa che oggi non è sicuramente economico ma è il modello di business che è totalmente cambiato cioè lanciare un'applicazione all'interno di uno store di un qualunque sistema operativo che sia l'Apple Store il Play Store e il Play Store di Google sicuramente espone questa applicazione alla possibilità di essere utilizzata in tutto il mondo in brevissimo tempo da un'audience che magari a priori uno si augura di avere ma non può sicuramente prevedere esistono poi diciamo altre funzionalità molto più di dettaglio diciamo di dettaglio su cui oggi sicuramente andate a vedere più nel dettaglio una memcache è una diciamo una memcache distribuita disponibile dentro il framework dentro il framework applicativo per la memorizzazione di quelli che sono i dati transazionali non persistenti quindi anche questo diciamo ad altissima performance proprio per garantire per garantire l'interazione rapida con l'applicazione andando sempre verso una direzione che è familiare allo sviluppatore come vi dicevo i linguaggi sono linguaggi familiari e anche gli strumenti che potete utilizzare sono gli strumenti gli strumenti familiari uno per tutti è disponibile il plugin per Eclipse e quindi voi potrete tranquillamente sviluppare per chi già sviluppa in Eclipse continuare a sviluppare in Eclipse e poi il run dell'applicazione avviene all'interno di App Engine domande? Guarda giro questa domanda ad Alfredo che non vedo la domanda ah ok questo magari questo non lo so lo chiediamo ad Alfredo comunque la domanda è se Android Studio che è stato presentato a Google IOS si integrerà con App Engine la parte diciamo Android è più a carico di Alfredo quindi magari quando torna e le facciamo la domanda ce la sentiamo per ultimo vi dicevo vi avevo fatto vedere l'introduzione la diciamo il fatto che Google abbia una rete una rete estremamente performante una rete estremamente performante che il cui sviluppo è stato guidato moltissimo anche da chiaramente dal successo di YouTube e quindi YouTube che si porta con sé tutta una movimentazione del dato dovendo noi servire lo stesso video in tutte le parti del mondo quindi tutta questa tecnologia ci consente oggi di esporre un servizio diciamo di data storage con delle capacità proprio di movimentazione di alta affidabilità del dato che sono quelle diciamo a cui oggi un utente è già abituato nell'esperienza da consumatore su YouTube quindi è possibile utilizzare questo servizio per la memorizzazione di file che devono magari essere utilizzati da uno o qualunque delle vostre applicazioni quindi è uno storage interamente applicativo non è uno storage di utenti noi abbiamo anche tutta una parte di suite di servizi più a livello applicativo per l'utente finale che si chiamano Google Apps all'interno della quale è presente una soluzione di storage per l'utente che si chiama Google Drive quella è diciamo lo storage per l'utente quindi è una sorta di proprio file system nel cloud qui stiamo invece parlando di storage per di uno storage applicativo con il quale diciamo si interagisce molto semplicemente attraverso delle rest API e la capacità a cui voi potete diciamo accedere è sicuramente illimitata chiaramente ripeto è un servizio che si paga a consumo quindi maggiore la capacità di cui uno ha bisogno e maggiore sarà diciamo la spesa sempre diciamo una spesa che però non è comparabile con quella di andare a doversi mettere in casa un'infrastruttura doversela gestire doverla pianificare e quant'altro però potenzialmente quindi uno può scalare teoricamente fino all'infinito cioè può scalare a piacere fino alla capacità di cui uno ha bisogno Cloud SQL è un altro diciamo servizio che noi offriamo e che credo andrete poi a vedere più nel dettaglio oggi quindi la possibilità di offrire un database relazionale quindi potersi appoggiare su un database relazionale interamente basato su MySQL e questo come tutti i servizi diciamo di Google ereditano la caratteristica una delle caratteristiche principali della piattaforma che sono le performance e l'alta affidabilità e l'alta affidabilità della stessa vedo che è tornato il freddo scusami c'era una domanda che non so se tu sei rispondo la domanda era di questo ragazzo qui in prima fila la ripeto io la domanda era se Andrade Studio che è stato presentato ad Ayo si integrerà con App Engine e integrerà cosa intendi per integrazione? allora Android Studio già dal nome è per Android quindi già adesso c'è i plugin su Eclipse non so se poi nel tempo diventerà un IDE che abbraccerà anche altre tecnologie per ora è focalizzato e ottimizzato per Android è possibile creare delle infrastrutture temporane con con molta potenza di carico Cloud Compute Engine quindi se tu hai bisogno di capacità computazionale quindi tu hai una tua applicazione hai il binario eseguibile della tua applicazione e hai bisogno di capacità computazionale la soluzione Google è una soluzione infrastrutturale che si chiama Google Compute Engine dico farlo per esempio soltanto per macchine decido di testarlo per otto ore la mia applicazione con 2000 accessi farlo per quel limite è possibile acquistare sostanzialmente macchine virtuali in ambiente Linux in questo momento con il servizio Google Compute Engine che oggi ha anche una caratteristica che ha una granularità di charging per minuto quindi diciamo con un minimo mi sembra di 15 minuti e poi puoi andare diciamo a testarla per il numero di ore di cui tu hai bisogno quindi se hai bisogno di capacità per un tempo ristretto puoi appoggiarti a questo tipo di servizio che è un'alternativa dicevo prima le due offerte lasciami dire computazionali una è la Pengin però vuol dire sviluppare l'applicazione con la logica di farla girare nell'environment diciamo di Google l'altra è che la sviluppi in modalità tradizionale e invece che farla girare su un tuo server compri il diciamo il server virtuale molto spesso il cliente non ha un'infrastruttura di test enterprise bisogna testare un numero elevato di accessi test di stress di carico magari fare un deploy per un giorno e testare l'applicazione anche si ad esempio ci sono anche dei casi d'uso che riguardano il trascoding video quindi hai bisogno di un'operazione che è più intensive quindi lasciami dire carichi sulla piattaforma quello che è il software per fare il trascoding e la capacità è offloadata sulla rete sulla nostra rete quindi corretto l'altro servizio che non mi ricordo se poi c'è scusami una sessione specifica su BigQuery o non sai che non mi ricordo no comunque un altro servizio che poi ok un altro servizio che è disponibile all'interno della piattaforma è Google BigQuery Google BigQuery non è un database relazionale consente di caricare diciamo un grandissimo un grandissimo numero di dati e ha la caratteristica di poter offrire la risposta alle query di interesse in veramente pochissimi secondi noi stiamo lavorando con alcuni diciamo clienti che ci stanno che stanno facendo proprio delle diciamo delle prove su questa piattaforma e ci stanno passando milioni e milioni di righe perché hanno bisogno di costruire dei cruscotti di business intelligent che devono essere rifresciati più volte e quando dico più volte dico anche dieci volte nell'ambito della stessa diciamo della stessa giornata quindi hanno dei dati altamente transazionali che devono essere caricati devono essere continuamente quindi le query devono essere continuamente rilanciate e stanno diciamo vedendo il grande vantaggio di utilizzare questa piattaforma uno proprio per il modello dice io non mi devo andare ad attrezzare con un data warehouse o con diciamo della capacità che devo acquistare mi devo portare in casa e devo poi gestire quindi ne ho bisogno magari per un periodo perché in questo momento il diciamo il dato che io devo analizzare è un dato estremamente transazionale mi appoggio su questo su questo servizio noi offriamo quindi BigQuery lasciatemi dire un'interfaccia nuda e cruda quindi uno deve scriversi la query e leggere il risultato esistono poi soluzioni di terze parti che fanno lasciatemi dire il mock-up grafico del risultato della query per esempio una di queste è BIME che proprio offre un software disponibile interamente online che interagisce con Google BigQuery ed offre l'intero cruscotto grafico di Business Intelligence magari anche integrato con le soluzioni di diciamo di mappe perché magari ci sono realtà dove la Business Intelligence deve essere anche geolocalizzata quindi immaginatevi se uno deve sviluppare un'applicazione o comunque un cruscotto di Business Intelligence che gli fa vedere il fatturato in tutti i negozi dispersi nel paese quindi ha bisogno di avere una localizzazione magari una mappa del calore sulle mappe in questo caso diciamo le mappe di Google l'ultimo che è giusto per darvi sempre una light è Compute Engine che è la soluzione a cui faceva riferimento il vostro collega che quindi mi consente di andare ad utilizzare per il periodo di tempo necessario e richiesto della capacità puramente computazionale quindi sono macchine virtuali in ambiente Linux che voi potete andare a comprare con una granularità di minuti con un minimo di almeno 15-15 minuti quindi massima scalabilità e massima variabilità o variabilizzazione del costo da un lato dall'altro lato prego per quanto riguarda la capacità di computazione vediamo che una persona può comprare vari vittori di più ma la capacità di un animo che riesce a sopportare la macchina com'è che viene ripartita come è che viene ripartita sicuramente c'è un'infrastruttura che gestisce la ripartizione del carico è la caratteristica della nostra infrastruttura quali sono ad esempio le possibili il KPI cioè l'unità di misura che mi dice quanta risorsa computazionale ha una virtual CPU cioè tipo i flops non so allora c'è tutto uno schema se magari sei interessato dopo ti ti mando tutto il dettaglio su cui quali sono le variabili su cui tu puoi andare ad acquistare la capacità computazionale quindi diciamo tu devi farti un minimo di planning sulla base di una serie di variabili che possono fare la tua esigenza magari se mi lasci il tuo indirizzo di mail ti mando tutta l'informazione necessaria per poter capire come fare questo tipo di pianificazione quindi ci sono dei parametri che tu devi assemblare lasciami dire per poi decidere quale tipologia di macchina andare a comprare quindi c'è un certo tipo di macchina con una certa capacità che tu puoi andarti a comprare devi capire qual è la tua esigenza sulla base di una serie di variabili che mettiamo a disposizione comunque se andate sul sito cloud.google.com trovate sostanzialmente tutti questi brevi highlight che vi ho messo io ma trovate anche tutto il modello di pricing quindi se sei interessato vai su cloud.google.com compute engine e trovi dentro qual è il modello di pricing che dietro a un modello di pianificazione tecnologica che risponde alla tua domanda in sintesi e questa secondo me è una slide su cui oggi andrete a vedere anche questo è disponibile su cloud.google.com ma questo è un po' una summa di tutte quelle che potrebbero essere non è detto che abbiate bisogno di tutte le risorse in gioco nel momento in cui decideste di andare ad appoggiarvi sul cloud di Google ad esempio per costruire il back end applicativo quindi andrete oggi nella giornata di oggi ad analizzare Google App Engine che è una parte diciamo centrale sicuramente della proposizione però parlerete credo che forse la sessione successiva a questa dei cloud and points che diciamo sono un servizio che noi rendiamo disponibile proprio per semplificare questa interazione fra il front end applicativo che voi svilupperete sull'ambiente iOS piuttosto che sull'ambiente Android e tutto il back end e tutta diciamo la composizione dei vari servizi che andrete eventualmente di cui andrete a pianificare nell'utilizzo in base alle esigenze dell'applicazione che andrete a sviluppare giusto per chiudere e quindi poi lasciare lo spazio alle domande alle sezioni successive i cinque lasciamoli se dovessimo riassumere in cinque caratteristiche principali i benefici di Google sicuramente partirei dalla storia nel senso che Google nasce sul web vive sul web e fa del web diciamo la propria missione quindi la caratteristica di questi servizi è che sono gli stessi servizi che noi come Google utilizziamo quindi esponiamo le stesse funzionalità sulle quali noi stessi ci appoggiamo per i nostri servizi performance quindi ne abbiamo discusso abbastanza consistenza quindi tutto quello che voi andrete a sviluppare rimane consistente su qualunque piattaforma voi lo sviluppiate sicurezza credo che lo vedrete oggi nel dettaglio come possono essere implementati tutti i meccanismi che rendono sicura la vostra applicazione ed affidabilità Google è una piattaforma tutti questi servizi hanno un contratto quindi un contratto di tipo di tipo enterprise e questo contratto è un contratto tra le parti fra Google e la società che intende utilizzarla e questo diciamo lo SLA lo SLA minimo è del 99.9 quindi noi garantiamo sostanzialmente un uptime estremamente estremamente elevato senza finestra di manutenzione programmata questo è quanto questo era veramente un overview ad altissimo livello giusto per introdurvi la giornata che invece sarà densa di contenuti estremamente estremamente tecnici io resto qui ancora almeno sicuramente fino al break per cui poi se avete bisogno di qualche domanda possiamo vederci di manutenzione di manutenzione di manutenzione Grazie a tutti.